buongiorno buongiorno a tutti in questo momento mi trovo in america come vi avrà detto marina marina so che che brava anzi qua dall'altra parte adesso so che brava sta facendo un buon corso ci siamo sentiti ieri niente io volevo salutarvi tutti quanti perché non vi ho conosciuto vi vedrò in foto con qualcuno di voi ci siamo visti in fiera ora non ricordo se con Michele Crivellari o con Roberto Andrea comunque credo che qualcuno di voi già c'eravamo visti da qualche parte almeno sulle telefonate che avevate fatto quando avete deciso di venire a questo corso qui sempre marina vi ha fatto vedere che il forum è un punto di contatto lo state vedendo adesso questa sezione questa parte del forum è fatta per voi quindi potete interagire direttamente quindi ritrovarvi tutti quanti il gruppo su questa sezione nonché andare a chiacchierare quindi discutere di tutto ciò che in questi due giorni di corso non c'è stato tempo di fare speriamo che buona parte dei vostri dubbi siano stati risolti ma in ogni caso capite che abbiamo creato questo strumento al quale qualcuno di voi è già iscritto era iscritto al vecchio e si è riscritto a quello nuovo sfrutterà il massimo e una piccola indicazione le domande non mettetele sul gruppo del vostro corso mettetele sulla sezione relativa cioè se dovete parlare di un problema non mettetela all'interno del gruppo è già successo altre volte ve lo sto dicendo semplicemente per semplicità e per comodità di tutto ok allora io vi saluto vi rilascio a marina a completare il discorso sui profili colora e niente ci rivediamo sul forum a sto punto o nei vari incontri il prossimo sarà a legge sempre dal forum saprete i vari momenti dove andremo in giro e ci troveremo vi ricordo sempre di mettervi la la spillina in modo da essere riconoscibili a tutti quanti ok grazie a tutti di essere qui di nuovo ci vediamo a sto punto dove volete voi ciao